È appena finito il Gran Premio di Barcellona per quanto riguarda la categoria della moto mondiale in una gara della MotoGP che non è stata così spettacolare ma che è di fondamentale importanza per la classifica del Camperatore del Mondo perché causa un grandioso incidente in Curva 1 che avete coinvolto tra gli altri. Anche Francesco Bagnaia quarta l'oro vince e allunga ancora una volta in testa anche a Pato del Mondo che oramai sembra più destinato a un duello tra due soli contendenti in una gara di Barcellona che a differenza della Formula 1 dove si è stato utilizzato il layout vecchio qui si è utilizzato il layout che io prediligo quindi con i due curvoni verso destra a concludere l'ultimo settore. Sarebbe secondo me un layout buono anche per la Formula 1 o magari per riveccizzare un po' di più anche le gara di Formula 1 che abbiamo visto anche in questo mese qui a Barcellona. Una Barcellona che appunto consacca anche una volta Fabio Quartarolo ma per un grande episodio che è successo evidentemente già alla partenza perché appunto nella primissima curva del Gran Premio di Barcellona Nakagami sbaglia completamente il punto di frenata su Bagnaia e su Riz. Il giapponese si sbilancia addirittura con la testa va a colpire la ruota posteriore di Bagnaia peraltro una manovra talmente pericolosa che mi sembra incredibile come non l'abbiano sanzionato. Fatto sta che appunto il giapponese perde il controllo, Bagnaia perde la sua volta il controllo della moto e poi nella carambola viene fatto fuori anche Alex Riz per una gara che di fatto si conclude appunto dopo una sola curva quanto meno per Francesco Bagnaia che è uno dei più grandi contendenti almeno sulla carta al titolo del mondo rispetto a Fabio Quartarolo. Di conseguenza appunto per questa manovra di Nakagami le speranze mondiali di Bagnaia tornano a essere quelle che furono prima del Mugello cioè abbastanza ridotte visto soprattutto il fatto che Quartarolo ancora una volta oggi ha dominato complice appunto un passo gara che era evidentemente superiore rispetto agli altri al netto che comunque probabilmente con Bagnaia in forma il podio forse sarebbe stata una cosa sicura per il pilota italiano ma forse se non c'era neanche spazio di contendere la vittoria questo Quartarolo che anche una volta ha dimostrato di come la Yamaha sia fatta assolutamente per lui peraltro notizia sempre di questo weekend che il pilota francese ha appena rinnovato sono altri due anni di contratto in essere per Fabio Quartarolo che dunque sarà un pilota della casa dei tre di Apason fino al 2024 e ne ha ben d'onde perché comunque anche una volta Quartarolo si sta indirizzando a vincere un mondiale che comunque sta sicuramente meritando sul campo un po' per meriti suoi un po' perché anche i contender sono uno diverso ogni giorno perché in teoria il titolato dovrebbe essere Bagnaia che però abbiamo visto che è molto attelenante perché è vero che ha vinto due gare nelle ultime quattro ma Bagnaia si è steso anche nelle ultime due gare tranne il Mugello però che Aleman evidentemente si è steso per un errore suo e qui il povero Bagnaia non ha avuto colpe per questo errore di Nakagami va detto però che anche l'altro contender di Fabio Quartarolo ovvero lo spagnolo Espargaro di fatto butta via un po' di già fatto perché conta male il numero dei giri e un po' come fece per Francesco Chilli qualche anno fa in Superbike ma anche Julio Simon nelle categorie propedeutiche del moto mondiale esulta di fatto a un giro prima dal termine della gara effettiva e appunto va largo in curva 1 facendo in realtà pensare a un problema visto che si vedeva comunque Espargaro alzare la mano come se stesse segnalando un problema in realtà stava semplicemente festeggiando un secondo posto che era assolutamente in ghiaccio e alla fine con questo errore veramente grossolano Espargaro deve cedere punti a Quartarogli avrebbe comunque limitati i danni in ogni modo Espargaro perché sarebbe finito secondo ma questo è un errore veramente imperdonabile e molto grave perché un contender al titolo del mondo com'è quest'anno la nice Espargaro peraltro molto costante non può cadere in questi errori di poca lucidità ed è un peccato però perché Espargaro correva letteralmente in casa ricordiamo che i fratelli Espargaro sono nati a pochissimi chilometri dal circuito di Barcellona e il circuito del Montmelò e quindi per Espargaro che in questo momento è un contender mondiale questa gara era di doppio significato Espargaro finirà quinto al traguardo per la gioia del team Pramac della Ducati che ne piazza addirittura due sul podio perché appunto oltre a Quartarogli che vince per la seconda volta in stagione il podio appunto lo completano Jorge Martin al secondo podio della stagione segno che su questa pista il pilota col numero 89 aveva dimostrato veramente di essere assolutamente in palla e un contender per il podio anche con tutti gli effettivi presenti in una gara che in realtà è stata veramente una vera e propria eica a tombe soprattutto in Casitalia perché 4 dei 6 ritirati di questa gara sono appunto dei nostri portacolori e terzo è Johan Zarko che comunque sorgnone sta facendo il suo gran bel campionato perché sfrutta lo zero di Daniela Bastignini che cade anche oggi e comunque Espargaro o meglio scusatemi Zarko porta spesso la moto al traguardo e peraltro nelle prime 5 posizioni questo è importante per un pilota che ripeto non ha molte velleità in realtà nel modo di vedere di titolo del mondo ma che comunque si dimostra di essere solido e assolutamente costante il che è strano perché parliamo sempre di Zarko che in MotoGP ha sempre dimostrato di non essere così tanto costante a differenza magari di altre categorie come la Moto2 dove è stato dei campioni in carica due francelli sul podio per cui suona la marsegliese per la marsegliese appunto è la seconda volta che suona quest'anno per Fabio Quartaro che sta rimediando da quando si è rientrati effettivamente in Europa a diciamo una prima parte di stagione veramente tremenda perché le prime 4 gare quasi disastro tranne in Indonesia le seconde 5 gare sono veramente gare di un campione del mondo nel vero senso del termine con un rendimento costante con di fatto a volte un margine di superiorità clamoroso come in questo caso Quartaro ha concluso con 6 secondi e passa di vantaggio sono gli immediati inseguitori e potevano essere secondo me anche di più in una gara che è stata veramente monotona per la vittoria perché appunto Quartaro complice anche l'incidente ha preso dal giro 1 di fatto e se ne è andato fino al giro 24 è stato molto bello in realtà la lotta per il podio tra i due team Pramac e appunto Alessio Spargarò ma Alessio Spargarò come detto finisce quinto per quest'errore grossolano che gli fa perdere ulteriori punti rispetto appunto a Quartaro sono 125 adesso i punti per il numero 41 di Casapriglia con 347 del francese che comunque è legittimamente adesso il favorito di fatto al giro di vuoto perché siamo alla nona gara su 20 totali di appunto conquistarsi il secondo titolo del mondo consecutivo per una gara di Barcellona che in realtà ha visto vari contendere al titolo del mondo sulla carta e anche pratici veramente fuori per varie colpe perché Bagnai abbiamo già detto fuori per colpe di Nakagami in modo di vedere, apro parentesi, non vedo il perché la direzione gara non abbia penalizzato Nakagami per il prossimo Gran Premio ultimamente è stato deciso appunto di non prendere provvedimenti per questa carambola in prima curva e lo posso capire per il Gran Premio in corso ma la manova di Nakagami è stata molto pericolosa di conseguenza mi aspettavo una penalità anche nella prossima gara che sarà al Saxe Ring in Germania invece al momento non c'è niente la Ducati è indubbiamente certo che farà ricorso e vedremo se già nella gara del Saxe Ring ci saranno dei provvedimenti per il giapponese l'altro contender, quantomeno sulla carta era Enea Bastellini che però ancora una volta cade questa volta in curva 5 a Barcellona ed è il secondo zero consecutivo per quello che sulla carta è un pretendente al titolo del mondo io non lo ritengo tale perché è vero che ha dimostrato di vincere più gara di tutti perché ne ha vinte ben tre ma come ho detto la scorsa volta Bastellini è incostante a differenza degli altri contender che lo sono vedi appunto Esparcaro e Quartaroro che saranno loro evidentemente i due principali contender al titolo del mondo di quest'anno gli altri o si inventano il miracolo come fece Bagnaia nella seconda parte della stagione dove provò quantomeno a rimontare su Quartaroro o la vedo clamorosamente dura che altri piloti possono inserirsi per vincere il titolo del mondo Quartaroro è indubbiamente il favorito Esparcaro è molto costante e nonostante questo errore è ancora in gioco però gli altri sono veramente after the music un po' come i piloti in generale di oggi perché abbiamo visto un sacco di ritirati soltanto 17 piloti sono arrivati se non sbaglio al traguardo e quasi tutti a punti tanto è vero che abbiamo dei risultati incredibili da certi punti di vista per esempio abbiamo i primi punti in carriera di Raul Fernandes che in realtà è un gran bel pilota è stato uno dei migliori piatti della moto dell'anno scorso nonostante il titolo lo vinse Remy Gorner ma Fernandes è uno dei miei pupilli e arriverà quando avrà una moto decente il KTM a Tetra non è una moto decente però è i primi punti in carriera per lui ma frutto appunto del fatto che ci sono state mille mila cadute davanti e infatti abbiamo punti anche per Remy Gorner che di fatto non si è mai visto abbiamo punti anche per Darren Binder che dei punti ne ha fatti però molto pochi questa è soltanto la seconda gara punti per il pilota sudafricano punti anche per Franco Morbidelli che comunque riesce quantomeno a salvare punticini anche se è una stagione molto deludente per il pilota italo-brasiliano così come deludente la stagione per esempio anche di altri piloti che abbiamo visto vedi per esempio Andrea De Vizioso che naviga veramente in acque tremende di classifica De Vizioso era addirittura fuori dai punti poi si è ritirato in una gara che però ha visto soltanto 17 per l'altra guarda veramente un'ecatombe gli altri piazzamenti li abbiamo già raccontati ma comunque li completiamo quantomeno per la top 10 parliamo di Luca Marini che appunto in contumacia di Bagnaia in contumacia di Bassinini è invece il nostro miglior portacolori ed è veramente una soddisfazione per il pilota di casa VR46 che come al Mugello e come in parte anche a Le Mans ha dimostrato di avere una crescita importante di conseguenza è una prestazione molto meritata per Luca Marini che in condizioni normali va detto avrebbe conquistato sicuramente una top 10 facile quindi bravo Luca Marini che di fatto è un pilota che a me non piace per tanti motivi però bisogna riconoscere quando evidentemente ha fatto una gara positiva e questo è assolutamente il caso settima posizione per Maverick Vignales per l'Aprilia che comunque avrebbe fatto una grandiosa prestazione in ogni modo a parte le nuove di Alessio Spargarò comunque avere un Vignales ancora una volta in crescita è importante perché l'Aprilia finalmente può contare su due moto per davvero Vignales ha fatto settimo non avrebbe puntato in realtà a nulla di più in questa gara ma comunque grandiosa prestazione per il pilota con la carriera numero 12 ottavo è Brad Binder con la KTM ufficiale nono è Miguel Oliveira con l'altra KTM ufficiale peraltro su Oliveira si dice che dovrebbe lasciare KTM l'anno prossimo in favore di Jack Miller anche se KTM voleva schierare Oliveira nel team satelite ma Oliveira avrebbe detto di no ultima posizione invece per la top 10 per Alex Marquez che è stato bravo comunque già a rientrare in pista dopo la grande botta al Mugello e ha fatto una buonissima top 10 per quella che di fatto è la migliore delle onda sappiamo che Mark Marquez si è operato al braccio infortunato dopo il grande incidente di Heres del 2020 e Nakagami era la migliore onda in pista prima dell'incidente alla fine l'unica onda rimasta è quella appunto di Alex Marquez che appunto porta a casa il salvabile quindi con una onesta decima posizione in tutto questo c'è da celebrare secondo me i premi anche una volta quindi con il rider e il pilota delusione del giorno l'ho accennato prima il rider del giorno nel suo piccolo è Luca Marini perché come ho detto ha fatto due gare costanti dal Mugello a Barcellona ha dimostrato che comunque in questa MotoGP ci può stare ed è un riscatto di Luca Marini che appunto l'anno scorso ha fatto una sessione di apprendistato quest'anno era partito in sordina e nelle ultime tre gare invece ha fatto top 10 costanza con la Ducati clienti quindi tanta roba in questo caso per Luca Marini tanta roba al contrario invece per Andrea Dovizioso l'ho accennato prima per me Andrea è la delusione del giorno perché in una gara ecatombe dove sono caduti veramente tantissimi piloti non arrivare a punti anzi ritirarsi a tua volta è veramente una delusione è vero che sulla carta la Yamaha RNF parte per battere la KTM Tech 3 ma in pista Dovizioso era dietro anche la KTM Tech 3 e questo è assolutamente una cosa da non fare da non appunto far accadere per un pilota che comunque è di prestigio di nome in questo momento come Andrea Dovizioso non ha la moto evidentemente migliore è ovvio che la Yamaha è fatta per Quartanaro e che la guidi di fatto solo lui però arrancare sempre in così acque basse della classifica è veramente una delusione e mi dispiace perché sono lo sapete un simpatizzante anche di Andrea Dovizioso fin dai tempi di quando era nella Ducati vedremo ci sarà un mini di riscatto già nella prossima gara in Germania Germania che sarà protagonista anche della Moto 2 e della Moto 3 che invece qui a Barcellona ha regalato delle gare veramente spettacolari in particolar modo la Moto 2 per l'Italia è soddisfacente perché vince Celestino Vietti e dunque suona il canto degli italiani per la terza volta in stagione per il pilota piemontese che allunga di fatto in testa al mondiale di fronte a Dunai Ogura che ha fatto la gara del Gambero una gara anonima in settima posizione Vietti invece è stato bravissimo perché ha avuto una grandiosa fama una grande capabilità nel balto ai suoi diretti avversari che sono quelli finiti a podio in particolare Aaron Canet che appunto si riscatta anche lui dallo zero del Mugello dove era caduto per colpe sue e appunto si ista al terzo posto in campeonato allo spagnolo l'altro contender appunto a Ogura battuto battuto anche il quarto contender ovvero Augusto Fernandez Guerra che fa terzo con la KTM ufficiale dunque Vietti veramente ha ragione di tutti questi piloti in una gara veramente bella che si decide appunto all'ultimo giro il manovra la manovra di sorpasso di Vietti è molto interessante perché di fatto con un incorso di traiettoria in una curva molto stretta di Barcellona va a infilare canette ad avere la meglio c'è il tentativo di rimonta poi dello spagnolo di fatto all'ultimo giro dell'ultima curva quella dove ci fu il grande sorpasso iconico di Valentino Rossi su Argel Lorenzo ma appunto non basta e di conseguenza vince Celestino Vietti per una Moto2 che non è ancora evidentemente chiusa perché come le altre categorie siamo al giro di Boa ma comunque fa piacere vedere un pilota che allunga in testa al mondiale un po' come è capitato in modo GP qui per fortuna è italiano e dunque c'è da festeggiare la grande protezione di Celestino Vietti che di conseguenza sarà ancora una volta l'uomo da battere in Germania ultima categoria di cui parliamo è la Moto3 che ha regalato come al solito il grande macello e dunque di conseguenza un'altra gara molto bella devo dire evidentemente ancora una volta che Moto2 e Moto3 mi sono piaciute tantissimo MotoGP invece molto meno anche qui è stata una gara di fatto decisa in volata con appunto un Isan Guevara che si riprende la vittoria che è stata tolta il Mugello ricordiamo che Guevara nel Mugello aveva vinto sul traguardo ma per aver oltrepassato il medio della pista fu penalizzato di una posizione e di conseguenza ha vinto il suo diretto rivale Sergio Garcia qui vince ancora il team Aspar su Gas Gas e dunque suona la marcia reale di nuovo ma stavolta per Isan Guevara che peraltro vince con un discreto magico di vantaggio perché negli ultimi giri allunga e mette quel secondo importante di vantaggio per averla meglio dei suoi diretti avversari in questo caso parliamo di David Munoz e di Tatsuki Suzuki peraltro parentesi su David Munoz pilota che ha esordito al Mugello nella scorsa gara per limiti di età ricordiamo che fino a quest'anno i piloti che hanno meno di 16 anni non possono esordire nel campionato del mondo ma è l'ultimo anno che ci sarà questa regola dall'anno prossimo si dovrà esordire con almeno 18 anni compiuti di età David Munoz ha sfruttato questa regola appunto per esordire in questa sezione a 16 anni ma ovviamente li ha compiuti di fatto al Mugello di conseguenza abbiamo visto Gerard Rio che ha esordito il suo posto e non ha fatto migliamente i risultati in 8 gare di quanti Munoz non abbia fatti in 2 Munoz ha dimostrato veramente di essere un gran bel talento dunque attenzione al pilota con la carriera numero 44 peraltro il primo podio di stagione e da una vita del team WSKX dunque grande prestazione di David Munoz sicuramente rider del giorno della Moto3 secondo podio consecutivo invece per Tatsuki Suzuki per un team Leopard che è un po' diciamo dolce amare in questa gara di Barcellona perché Suzuki fa podio e salva una terza posizione peraltro togliendo punti a Sergio Garcia il team Leopard però deve rimpiangere il fatto che a Danny Sfoggi si è letteralmente scesa da catena e dunque il pilota romano che comunque era in ottimissima posizione per vincere questa gara ha dovuto abdicare ancora una volta e come per Bastidi in modo GPS secondo zero consecutivo per il pilota romano e di conseguenza le speranze di mondiale evidentemente si affievoliscono il distacco è veramente grosso perché parliamo di fatto di quasi 60 punti veramente già un'impresa la nona gara ma vedremo sappiamo che il mondiale Moto3 è veramente tirato e lo vedremo già a partire dalla prossima gara che sarà in Germania al GP del Sachsen si chiude qui dunque il recent podcast per quanto riguarda la MotoGP e le categorie di contorno il recent podcast molto a caldo è uscito veramente a pochi minuti dalla fine del Gran Premio e voi vedete invece questo recent podcast alle 17 di oggi per motivi di post-produzione fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di tutto quello che è successo l'incidente di Bagnaya Nakagami e Rins delle gare del Moto2 e Moto3 di come vedete anche il cavolo del mondo MotoGP e saluto da parte di Matthew Torgaard ci vediamo al prossimo video Grazie